La via le ditte in pondere Vorrei, nel suo bel cuore, vorrei destar colpiti del mio pevato favore. Principe, bentornato, che sorpresa, e quando si fermerà? Chi lo sa? Ah, a proposito, deve essere tutto perfetto. Perfetto per cosa? Perfetto. Ciao Mariuccia. Buongiorno. Buongiorno Principe. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Principe. Che profumino. Buongiorno Principe. Buongiorno. Bentornato Principe. Ciao Vito. Allora, piccolino. Perfetto. Parmigiano. 18 mesi. Sorrento? Sorrento. San Rossore. Volevo. Vai e a yec. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ssh, vista. E' il destarco palpiti del mio pello. Eh sì, c'è abito e abito. Fefe, è perfetto questo. E' bello rivederti. Non sei cambiato. Vieni. E' il viaggio? New York, Milano? Ottimo sonnifero. La mamma come sta? Lo sai com'è fatta, zio? Mi ha obbligata a venire in Italia. Ma è giusto. È giusto che tu conosca la terra dove sei nata. Sì, lo so, ma ho un sacco di tempo per conoscerla. Lo sai cosa volevo fare io, zio? Volevo fare il giro del mondo. Anzi, sinceramente mi sa che domani riparto. Tu però non glielo dici alla mamma. Sarà un segreto. Mmm. Io non ho mai assaggiato una cosa. Così buona? Vedi, l'Italia è piena di sorprese. Se tu mi dai 48 ore ti mostrerò tutti i nostri piacevoli segreti. E se vorrai subito partire te lo offrerò io. Il giro del mondo. L'Italia è il giro del mondo? Perderai. Forse. Ma c'è paese in paese. La via le ditte in fondere Vorrei nel suo belcore Vorrei destarco palpiti Del mio pelato amore Quante armonie nelle lettere E quanti...